le puntate di un posto al sole continuano a tenere compagnia a milioni di telespettatori nella prossima puntata di nuovo al centro delle dinamiche marina e roberto ferri continua irrenfreabilmente il successo di un posto al sole la soap più amata e seguita dal pubblico gli abitanti del palazzo palladini non smettono di appassionare il pubblico con dinamiche e intrecci avvincenti in quanti sono cresciuti con gli attori del cast molti di loro rappresentano veri e propri punti di riferimento un esempio lampante è rappresentato da marina e roberto ferri i due fanno parte del cast da anni e questo ha permesso ad entrambi di poter conquistare l'amore e l'affetto di milioni di fan inevitabilmente invece molti altri protagonisti hanno deciso di lasciare il progetto questo per dedicarsi anche ad altri ruoli un posto al sole clima tesissimo per roberto ferri e marina nelle puntate precedenti abbiamo assistito ad un momento complicatissimo tra mariella e guido sono ormai diverse settimane che la coppia non riesce più a trovare l'equilibrio di un tempo la situazione è peggiorata da quando nella loro vita è ritornata claudia un'amica molto intima di guido da questo momento il rapporto tra i due è profondamente naufragato mariella le ha provate tutte il suo desiderio è stato per un lungo periodo quello di poter ricucire con guido questo non è stato però possibile alla luce di quanto visto mariella ha deciso di lasciare la loro casa insieme al figlio ma arriviamo al dunque che cosa succederà nella prossima puntata al centro delle dinamiche roberto ferri e marina i due saranno nuovemente messi sotto pressione una notizia dal tribunale arriverà a travolgere nuovamente i loro piani come sempre centra tommaso e la paura di perderlo è davvero fortissima come reagirà ferri questa volta anche per guido le cose si mettono male dopo che mariella è andata via di casa sta vivendo un momento di forte squilibrio disperato non riesce a stare solo lontano dal figlio e dalla donna che per anni si è presa cura di lui come si metteranno adesso le cose le puntate proseguiranno anche ad agosto la soap solo dal 12 al 23 del mese più caldo dell'anno andrà in pausa in onda saranno trasmessi i momenti più belli di questa stagione un modo per permettere ai telespettatori di vedere o di rivedere le scene più belle per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate non perdetevi nemmeno un appuntamento un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su rai 3 i protagonisti ti aspettano per regalarti chicche e momenti indimenticabili tutti loro fanno ormai parte delle famiglie italiane il legame nato seppur virtuale è diventato fortissimo